Nell'ambito della solidarietà, l'impegno personale di una comunità tutta è decisamente più importante anche della grandezza di ogni singolo evento. Così anche la frazione terranovese di Campo Gialli nel fine settimana ha ospitato un banco per il mercatino del calcito, riscontrando anche una resa ottimale proporzionata chiaramente agli spazi più grandi del fondo valle. Gli attivisti del comitato all'interno della frazione non hanno appunto mancato alla presenza in favore di chi soffre. E anche quest'anno ci siamo, ci siamo, riproponiamo e vediamo che insomma la gente viene interessata e sta andando bene, riserva specialmente i bambini, ora a quest'ora è impossibile, sono ancora a letto e sta andando bene, considerando il piccolo banchino, il piccolo paese, insomma sta andando bene. Cerchiamo nel nostro piccolo di essere attivi per far vivere il paese perché sono iniziative importanti, soprattutto per aiutare i calcit e sinceramente io lo faccio molto volentieri, è sacrificio per tutti, anche per chi ci dà la roba perché si fanno questi mercatini anche grazie alle persone che durante l'anno mettono da parte cose che magari non gli servono però prima di buttarle ce le risistema e ce le dà. Ecco, quindi un grazie a tutti veramente. Questo peraltro è il primo di una lunga serie di eventi legati al Comitato per la lotta ai tumori del Valdarno nel mese di luglio. La stagione estiva facilita la convivialità, l'appuntamento clou sarà il concerto in piazza San Giovanni il prossimo 26 luglio.